Allora, audio dell'estate, Massimo Venier, possiamo dire che c'è un richiamo al passato pur essendo però un trio nuovo, ecco? Sì, esattamente così. È un richiamo ai toni, alle atmosfere dei film del passato nostri che si erano un po' perduti, però con tre attori che infatti insomma sono passati 15 anni per tutti, per me, per primo, quindi nella sensibilità, anche nei temi, in che cosa raccontare e come, volevo che questi 15 anni si vedessero, tanto si vedono lo stesso, a meno che non usi gli effetti speciali di Scorsese e si sentissero nel racconto e che fosse un po' un percorso per ritornare da lì a certe atmosfere, a un certo modo di stare insieme che si deve riconquistare. Ecco, questo abbiamo provato a fare con questo film. Un percorso che, come hai detto tu, parte anche dalla musica, perché dalle prime note di Bruno Lysas, fantastica, la conona sonora, c'è un richiamo, se non sbaglio, anche a una sonorità che avevamo già ascoltato magari in Così è la vita, molto leggera, malinconica, se vogliamo, giusto? Sì, lui per me era perfetto, perché la sua musica e anche proprio la sua sensibilità, i suoi suoni erano perfetti per questo film e lui l'ha capito immediatamente. Ad esempio la prima canzone del film, quella che ha dei titoli di testa, è proprio un biglietto da visita su che tono bisogna aspettarsi da questo film, su che tipo di racconto sarà. C'è leggerezza, c'è dolcezza, c'è malinconia e c'è che ci sono dei temi da affrontare, che volenti o nolenti si affrontano. Lo puoi fare ridendo, lo puoi fare con leggerezza, lo puoi fare andandoci dentro e soffrendo anche un po', e per me lui è proprio perfetto per raccontare questo dal punto di vista musicale, e quindi poi in tutto il film asseconda questo gusto e sono molto felice del suo lavoro. Ecco, un viaggio che è iniziato nel 97 con un film cult che è Tribuna una gamba. Il giorno prima delle riprese di Odio l'estate, vi siete sentiti? Che emozione c'era? Perché l'attesa anche da parte e soprattutto dei fan era fortissima nel ritrovare appunto il trio. La prima me la ricordo molto bene, ma non ti dirò assolutamente cosa ho provato, perché c'era molta emozione, paura, questo sì, le cose che posso dire sono queste, che c'era molta emozione e molta paura, che io non sapevo di avere, l'ho scoperto quella sera lì, ho proprio capito che avevo, e anche devo dire un po' di sfiducia quella sera lì. Il giorno dopo abbiamo cominciato e tutto si è magicamente, lentamente, ma vedevo che qualcosina, un po' come la pallina di chiedimi se sono felice, non so se te la ricordi, noi siamo affezionati a queste stupidate. Parte anche poco poco, basta, andate, vuol dire che va. Questa è stata la sensazione che abbiamo avuto il primo giorno di ripresa, della sera prima, molta, molta, molta paura. Come siete cambiati in questi anni, in cui, diciamo, c'è stato un periodo di pausa, tu la conosci Claudia? Loro non lo so, sono cambiati sicuramente, ma non lo so, nel senso, mi sembra che abbiano perso, ma perché l'ho perso anch'io nella mia vita, la leggerezza del cazzeggio e che la cosa più importante del mondo è una cosa che adesso tu dici quella lì è una stupidaggine, è la prima che metto da parte, che non faccio. Invece mi ricordo che tanti anni fa per noi la priorità era il divertimento, il cazzeggio, il gioco insieme, con gli amici, questa è la cosa più importante. E ora non più. Per me è andata così un po', perché la vita, le cose che succedono, le responsabilità, la famiglia, gli anni che purtroppo fanno questo effetto, credo che sia andata così anche con loro, sia personalmente, individualmente, sia come gruppo. Questa almeno è l'idea da cui sono partito, anche se non era vero, e quindi ho cominciato a scrivere da lì, sapendo sulla mia pelle che cosa vuol dire.